Amici sportivi di Cittadariano.it, un calorosissimo benvenuto anche in questa nuova puntata di Sportariano, il contenitore che dall'inizio dell'anno, all'inizio dell'anno sportivo, vi sta tenendo compagnia su tutto lo sport arianese, calcio, volley, questa settimana non basket, perché il basket si è preso una settimana di pausa, ma ritornerà con il giorno di ritorno della pool promozione nella settimana prossima. Allora, noi stavolta però vogliamo un po' stravolgere i nostri consueti piani, invece di questa breve introduzione che porta poi al servizio successivo, che dà inizio alla puntata, vogliamo entrare subito nel periodo della puntata perché abbiamo già un ospite con noi. L'ospite non riguarda il calcio, non riguarda il volley, non riguarda il basket, ma riguarda l'atletica leggera che per la prima volta trattiamo nel nostro contenitore sportivo. L'ospite che è qui con noi e prima di trovarci è Antonio Caso, un atleta che ha portato alto il nome di Ariano nell'ultimo campionato indoor, nell'ultima manifestazione indoor che si è svolta ad Ancona il 27-28 febbraio e primo marzo. Allora, noi perché siamo qui con Antonio Caso che innanzitutto ringraziamo per essere qui con noi? Ti ringrazio io per avermi invitato e veramente sono lusingato, grazie per questo vostro invito. Allora, il nostro ospite ha raggiunto un grandissimo risultato perché in questo meeting che c'è stato ad Ancona il 27-28, primo marzo, poi lui ce ne parlerà anche meglio, è riuscito a raccogliere ben due medaglie d'oro e una medaglia di bronzo. Facciamo un attimo il punto della situazione. Ha vinto nella categoria M60 la medaglia d'oro per quanto riguarda la staffetta 4x200, in squadra con anche Macchione, Deina, Tettore. Poi ha vinto un'altra medaglia d'oro, è stato campione italiano nella categoria M65 per i 200 metri. E poi ha vinto anche la medaglia di bronzo, tra l'altro vicinissimo alla medaglia d'argento, è andato il nostro ospite, nella categoria è sempre M65 nei 60 piani. Allora, noi chiediamo prima di tutto ad Antonio Caso un resoconto di questi tre giorni di successi lì ad Ancona, le sensazioni vissute prima, durante e dopo le varie gare. La sensazione innanzitutto è stata una battaglia perché ogni volta che si va a gareggiare è una battaglia, ci sono tensioni. Il bello dei master è perché tu puoi vivere, nonostante l'età, ancora le belle tensioni di quando facevi attività sportiva, soprattutto poi nella velocità e quella che io predilico, la tensione è notevole molto prima della gara. Allora, quelle belle sensazioni di tensione, quel pathos, diciamo così, prima di partire, te lo porti tutto dietro. Te lo porti dietro in tutti i sensi, perché dopo due, tre giorni di gare, effettivamente arrivi distrutto. E' chiaro, poi i recuperi a 65 anni non è che sono quelli di 20 anni, però c'è alla fine il gusto, il piacere di aver partecipato prima di tutto, poi se hai vinto è ancora meglio. Ecco, di queste tre gare, quale è stata quella che lei temeva di più all'inizio? Beh, io non è che temevo di più, conosco oramai, sono parecchi anni che faccio questa attività, più o meno con i nostri avversari ci conosciamo, c'è qualche nuovo che arriva. La gara che più mi entusiasma e diciamo mi esalta, anche perché non è di breve intensità e di breve durata sono i 200 metri. 200 metri riesci proprio a capire in quei 27 secondi che io ho impiegato, 27 e 17, riesci a capire effettivamente tante cose, insomma riesci a vivere bene il momento della gara stessa, anche l'agitamento del pubblico, anche il valore degli amici che trovi a fianco con cui stai competendo. I 60 metri sono una velocità più diciamo di energie nervose e di attimi, poi l'esaltazione maggiore rimane la staffetta dove c'è una gara di squadra, dove tu partecipi con altri amici e che veramente ti esalta e ti entusiasma. Poi ho detto se riesci a vincere qualche medaglia è ancora meglio. Ecco, proposito di medagli, facciamole vedere le medaglie ai nostri telespettatori, intanto vediamo anche le immagini nel servizio che ci stanno mandando in onda, questa è la medaglia d'oro e sono identiche le medaglie d'oro, le medaglie di bronzo, cambia soltanto il valore del colore insomma, del metallo ecco, diciamo. Tra l'altro lei non è nuovo alla conquista di medaglie, perché se non erro poi mi correga se sbaglio, lei praticamente è nel circuito dal 2000 e dal 2000 a oggi io, mi sono permesso di annotare, è stato campione d'Europa nella categoria M50 nella staffetta 4x200 nel 2000, l'anno dopo categoria M55, campione del mondo, sempre nella staffetta 4x200 e poi nel 2010 campione italiano Master 60 nel Decathlon. Sì, questi sono alcuni dei miei risultati, sono stato anche campione italiano già diverse volte nei 200, sono stato anche campione italiano nell'Eptathlon e poi quando hanno introdotto il Decathlon ho fatto anche il Decathlon e a Roma nel 2010 effettivamente ho fatto una buona prestazione perché oltre a vincere la medaglia d'oro ho stabilito il record per quella categoria, poi il record che è durato qualche anno poi me l'hanno tolto, mi sembra che me l'abbia tolto proprio, è stato tolto ultimamente da un amico che ha passato categoria e quindi il Decathlon è un'altra specialità che faccio, che mi sto preparando, a maggio ci saranno poi i campionati italiani di Decathlon sempre a Dancona e se Dio vuole e se la salute ce lo consente che il Decathlon è veramente molto molto impegnativo e sono 10 specialità, se arrivo integro vorrei arrivare anche a fare il Decathlon il 22 maggio a Dancona, già è previsto nel calendario FIDAL. Quindi il 22 maggio l'appuntamento con la prossima vittoria? Speriamo, insomma. Come più volte ricordato, l'importante è esserci e dimostrare di avere ancora le cartucce da sparare, come si suol dire? Non è che ce ne siano molte però se uno si riesce... dei risultati mi sembra che ci siano. No, i tempi sono buoni, insomma, fare 27 e 17 ancora sui 200, 8 e 41 nei 60, insomma stando vicini ad altri amici che sono veramente bravi, capaci. La regia ci sta ancora mandando in onda le immagini della gara dei 200, non scatto niente male, un ritmo. Io sono basso, quindi non è che corro molto bene, però ho la frequenza, una discreta frequenza e quindi una discreta resistenza che naturalmente nasce anche dall'impegno, dagli allenamenti che faccio metodicamente quattro volte alla settimana nella villa comunale insieme al mio amico Otomacchio Unico, con cui abbiamo vinto la staffetta. Un'ultima cosa, questa passione per l'atletica leggera viene da lontano e è nata nel tempo, quando è nata questa passione? Lo sport a me è sempre piaciuto, da quando ero ragazzo, facevo addirittura le scuole medie, poi il liceo, è un poco, ha caratterizzato le nostre generazioni arianesi, voi siete più giovani, sicuramente non vi ricordate gli anni 60, quando le possibilità di interrelazione, di uscire fuori dal nostro ambiente erano pochissime e lo sport rappresentava questo momento di poter uscire fuori. Ricordo che si facevano volentieri i campionati studenteschi, dove già andare ad Avellino era a fare le gare studentesche, era un'impresa, perché non c'erano le strade, non c'erano le autostrade di oggi. Andare poi fuori, ho fatto anche un po' di attività calcistica, sono stato anche nell'Ariano per qualche anno, ho fatto anche la palla a canestro, quindi erano momenti per poter, oltre divertirsi, anche avere la possibilità di uscire fuori e relazionarsi con gli altri in momenti difficili di possibilità economiche. A proposito di esperienze calcistiche, esperienza nell'Ariano, come vedi il calcio arianese oggi? Veramente lo seguo poco, so che c'è sempre mister del vecchio, il quale è un poco l'animatore con cui mi sono trovato pure l'anno scorso, due anni fa insieme in un'intervista, è chiaro, ad Ariano lo sport è in un momento di difficoltà, le difficoltà perché, quindi anche il calcio, mi meraviglia molto come la palla a canestro sia ancora all'apice con i grossi sacrifici che sta facendo la società e Mario Cirillo. Oggi purtroppo per fare un'attività sportiva ci vogliono dei fondi notevoli, c'è una situazione economico-finanziaria che spesso diventa insostenibile, gli sponsor diminuiscono e quindi non c'è investimento. Oggi il volontariato, ai tempi miei quando io giocavo a pallone subito dopo il terremoto del 62 che si costituì, la squadra dell'Ariano perché era stata ferma per diversi anni, il campo sportivo, quelli miei coetanei, i più anziani si ricorderanno, c'erano le baracche, andavamo a giocare addirittura a Montecalvo, quindi si doveva ricostruire la società calcistica e si andava col volontariato, noi andavamo a giocare gratis a T'amore dei. Oggi è un poco difficile perché le trasferte sono più lunghe, ci vogliono più mezzi, si deve richiedere, però è pur vero che si deve un poco lavorare sul materiale locale. Se si riesce, ecco la capacità, io ho detto pure a Mister Del Vecchio, lo dico un poco pure a Cirillo, a tutti quelli che fanno attività sportiva a livello locale, bisogna investire molto sull'elemento locale. Se riusciamo a investire sull'elemento locale può darsi che giostrando un poco, tirando fuori qualche campioncino, poi l'attività sportiva si potrebbe autofinanziare. È sempre un fatto positivo, mi sembra che ci siano due squadre, d'oriano. Nel calcio in realtà esattamente ne sono quattro, una nell'eccellenza e tre nella prima categoria, comunque stanno dicendo la loro, anche facendo fronte a queste difficoltà di cui si stava dicendo. È certo, sì, sarebbe buono riunire tutte le forze naturalmente e valorizzare, come dicevo, gli elementi locali, è importantissimo questo. Bene, in ultima battuta, il nostro vospedale, se non sbaglio, voleva ringraziare qualcuno. Beh, è chiaro, quando si fanno attività come la mia, i meriti non sono soltanto miei, è chiaro, ma io sono seguito bene da un allenatore di livello regionale, anzi potrei dire ultra regionale, Gianluca De Luca che è l'allenatore della mia società di Portici, che è veramente molto bravo, ha introdotto, sembra strano, ma anche alla mia età, alla nostra età, gli allenamenti sono più che importanti, ha introdotto la filosofia oltreoceano, quella americana, negli allenamenti e sto vedendo che da due anni che sto facendo questi allenamenti, i risultati addirittura migliorano ed è difficile quando più si va avanti nell'età migliorare, significa che gli allenamenti sono buoni. E quindi lo voglio ringraziare, Andrea, questo Gianluca De Luca, questo mio allenatore, e poi l'altro è il mio fisioterapista Andrea Loconte, che è un caro ragazzo che adesso si sta laureando in fisioterapia, che mi ha seguito, mi sta seguendo con i suoi massaggi, con le sue attività, che veramente mi fanno rimanere integro negli allenamenti. Io lo ringrazio veramente tutti, ringrazio poi in modo particolare il mio amico Ottomacchione, che mi sopporta negli allenamenti, con cui stiamo insieme, non è potuto venire perché oggi è raffreddato, poi all'ultimo momento abbiamo saputo di questo invito, di questo gratuitissimo invito e sono tutti questi amici che naturalmente mi sostengono nell'attività. Benissimo, allora noi ringraziamo ancora una volta Antonio Caso per essere stato qui con noi e gli facciamo i nostri migliori auguri per le successive gare, sperando che possa avere risultati uguali, se non addirittura migliori di quelli raggiunti finora. E noi invece passiamo adesso al calcio, lanciamo il servizio sulla Vistariano e poi torniamo qui per il punto generale sul campionato di eccellenza e di prima categoria. Cinque gare alla fine, quattro per la Vistariano, due in casa e due fuori, tre saranno scontri diretti da non fallire, campionato combattutissimo in cui abbiamo sprecato molte occasioni per metterci le spalle al sicuro, ma in cui possiamo ancora raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio stagione, ma facciamo un punto generale sul girone. Salvezza e play-out è la situazione che ci interessa da vicino, partiamo da chi è tranquillo o quasi, obiettivo che può sostanzialmente considerarsi raggiunto per Mariglianese, Santommaso, Faiano, Valdiano e Nocerina, che in teoria potrebbero anche giocarsela per il quinto posto data la classifica corta, quasi fatta anche per il Sant'Antonio Abate, che si tiene a distanza di sicurezza dai play-out. Solo la matematica rema contro questi club. La zona d'alto rischio parte dalla Palmese, solo a più 3 sui play-out, con il riposo ancora da osservare. A pari punti Massa Lubrense, Forza e Coraggio, ma i Beneventani sono avanti negli scontri diretti e hanno già riposato. Campagna un punto dietro, ma con la paura di perdere a tavolino contro le clanese, sconfitta che farebbe scivolare Granata a meno 4 dalla salvezza. Il Real Ponte Cagnano segue a ruota al terzo-ultimo posto a meno 4 dalla salvezza. Poi ci siamo noi, che siamo a meno 6 dalla salvezza e a meno 5 dalla prima posizione utile per giocare in casa ai play-out. Ma dobbiamo anche guardarci alle spalle. Le clanesi a meno 5, a differenza nostra, ha già riposato. Se poi dovesse anche ottenere i tre punti a tavolino contro il Campagna, allora sarebbe a meno 2 e lì sarebbe davvero dura. Una serie di scontri diretti che non riguarderà solo l'Ariano risolverà ogni questione. Fare pronostici è impossibile. Troppa incertezza e imprevedibilità nelle contendenti. E quindi purtroppo il derby contro le clanese è stata una pagina assolutamente da archiviare della nostra stagione, il campionato che sta avvolgendo al termine. Come abbiamo visto nel servizio mancano solo 5 partite alla fine del campionato, alla fine della stagione nella regular season in eccellenza girone B. Per l'Ariano ne mancheranno 4, visto che c'è poi il turno di riposo nell'ultima giornata. Purtroppo è una situazione abbastanza difficile, ma non è ancora finito nulla. Sono sempre 6 i punti dalla salvezza diretta, sempre 5 i punti per andare a giocare un play-out sempre in una migliore posizione. Certo, dobbiamo anche guardarci dietro alle clanese che si sta rifacendo avanti, però possiamo ancora tranquillamente farcela, anche perché poi le gare sono... tre gare su quattro sono contro l'avversario alla portata. Noi ci andiamo a leggere un'ottima classifica con il Gragnano che è passato in testa alla classifica con 65 punti, seguito dal Sant'Agnilo 62. Scafadese che prova a tenere viva la speranza play-off, stesso discorso per il Viquequense. Se si giocheranno i play-off, con molte probabilità però, la squadra che arriverà a seconda si risparmierà alla semifinale, visto che il distacco dal gruppo delle quinte è abbastanza ampio. Invece per quanto riguarda la zona calda, il Sant'Antonio Abate che è il nostro prossimo avversario è quasi salvo. La zona calda parte dalla Palmese e poi ci sono anche Forza e Coraggio e Massolo Brense che aprono la zona play-out, il Campania, il Ponte Cagnano, l'Ariano e l'Eclanese che ha recuperato qualcosa e spera di recuperare ancora altro nelle prossime partite. Il prossimo turno, come detto, c'è Vissariano, Sant'Antonio Abate ma c'è anche Ria Ponte Cagnano e l'Eclanese, altra gara importante, Sant'Agnano Nocerina, Mariglianese Palmese, Gragnano, Sant'Ommaso, Campania, Real Viquequense, Scafadese Faiano e Forza e Coraggio, Valdiano riposa la massa lubrense. Andiamo invece a parlare anche della prima categoria dove nell'ultimo turno ci sono state le vittorie importantissime del Real Vareano che resta in scena della prima in classifica, dello Sporting che resta in pienissima corsa per la salvezza, ha rallentato un po' la manna nella partita contro lo Sturno però insomma è ancora una posizione di classifica tranquilla che tiene a distanza di sicurezza la zona play-out. Infatti in classifica vediamo Real Vareano che è sempre lanciato a due punti dalla prima in classifica che sta staccando anche le altre, poi ci sono Artemisia, Tarasi, Lacedonia, si è rifatto avanti lo Scampitella, Manna che resta lì nel limbo, non molto distante dai play-out, poi ci sono Lapari, Sportingariano e Friggento e poi tutto il resto con il Paternopoli che chiude la classifica a otto punti. Nel prossimo turno c'è il derby, il prossimo turno c'è il derby con la sfida tra il Real Ariano e lo Sportingariano, penultimo derby stagionale Real Ariano che finora è un ottimo scorne derby, 23 su 3 giocate finora, l'andata con lo Sporting e le due gare con la Manna, poi lo Sporting è il prossimo avversario e chiuderà il ciclo di derby del Real Ariano, non il ciclo di derby in generale perché nella penultima giornata ci sarà quello tra Sporting e Manna di cui sicuramente ne parleremo. Il prossimo turno quindi oltre al derby c'è anche la gara tra Artemisium e Ariano Manna, gara anche questa molto delicata, c'è Friggento Bonito, Taurasi, Gravit, Fontanarosa, Paternopoli, Sturno, Scampitella e Comprensorio Miscano, Accadia, riposerà invece il Lacedonia. E quindi adesso passiamo invece alla palla a volo, visto che non c'è il basket, passiamo alla palla a volo, palla a volo che è stata riduce da un weekend molto positivo sia per la scuola femminile che per la scuola maschile, la scuola femminile ha rifilato un secco 3 a 0 al Cus Napoli e si prepara la prossima gara contro la Partenove, mancano quattro giorni dal termine. Partenove che è una delle squadre che lotta nelle posizioni alte di classifica, però il GSA Ariano che si è saputo difendere veramente molto 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 bene nel corso di questo campionato di serie di progetto giovani che può essere ormai quasi archiviato, mancano poche gare, ma sarà sicuramente archiviato a prescindere dal risultato della prossima gara come una stagione positiva. Per quanto riguarda la squadra maschile, la squadra maschile è tornata alla vittoria vincendo il derby contro l'Olimpica per 3 a 0, punteggi di 25 a 19, 25 a 11 e ancora 25 a 19. Vittoria che ha permesso alla GSA di portarsi a quota 17 punti, ben distante dal net volley che a quota 0 è ormai praticamente quasi retrocesso, invece GSA che ormai salva. Diverso invece il discorso per quanto riguarda le posizioni alte dove magari si sperava qualcosa in più all'inizio anno, purtroppo la stagione non è andata per come ci eravamo prefissati, però comunque la GSA e Ariano si è saputo difendere molto bene in questa stagione, si prepara al prossimo turno che sarà contro il San Giorgio Volley che è la seconda forza del campionato, il campionato che vede il girone A del campionato di serie D, in testa il cava cuscinetti a quota 39 punti seguito a 33 dal San Giorgio e a 31 dallo Stabia, quindi sono queste le tre squadre che si stanno giocando le prime due posizioni, ci sarebbe anche l'Alberti a quota 29 però un po' più in ritardo, GS Ariano che è al settimo posto a quota 17 punti, spera di salire ancora di qualche posizione, in coda l'Olimpica a quota 10, il net volley a 0 e il destino della formazione del net volley sembra abbastanza segnato. A questo punto noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sportariano, ci rivedremo ancora per parlare di volley, di calcio con il rush finale che entra sempre più nel vivo e anche di basket perché ci sarà la pool promozione che ricomincerà e quindi saremo anche lì nelle 5 giornate decisive che ci porteranno ai playoff. A questo punto noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Sportariano, un saluto a tutti! Grazie a tutti!